L'intervento di stamattina è sul recupero agricolo architettonico in un paese di spopolamento, un paese che ha due insediamenti, uno post-sismico terremotato e l'altro recente, nell'ultimo secolo. Come abbiamo costruito la comunità nell'arco di dieci anni, attraverso un recupero degli spazi smessi e un recupero dei saperi, attraverso delle riunioni di paese e l'intervento partecipato di una comunità, che man mano che passavano gli anni diventava sempre più competente e visibile. Questa summer school inedita dà la possibilità di confrontarsi ad un argomento che adesso è un trend topic, è molto richiesto, ma che è intercettato, studiato da pochi, per cui è raro potersi confrontare per una settimana con tanti specialisti esperti che lavorano tutto l'anno su questi argomenti. Grazie! Grazie a tutti.